Il treno regionale 23789 di Trenitalia, nelle ore 20 e 10 per Ascoli Piceno, è in partenza dal binario 4, invece che dal binario 7, Ferma Ambrano, Osimo Castelfilardo, Loreto, Porto Lecanati, Potenza Vicene, Montelbone, Civitanova Marche, Porto Sant'Elvivio, Porto San Giorgio Fermo, Bedaso, Cupra Marittima, San Benedetto del Tronto, Porto Dascoli, Monteprandone, Monsampolo del Tronto, Spinetoli Colli, Colli del Tronto, Vari Centrale, delle ore 19 e 42, è in arrivo in ritardo al binario 3, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma San Benedetto del Tronto, Pescara, Termoli, Foggia, Barletta, i livelli executive e business sono in testa al treno, annuncio ritardo, il treno regionale veloce 41, 56, di Trenitalia, delle ore 19 e 56, proveniente da Roma Termini, arriverà con un ritardo previsto di 20 minuti diversamente da quando già iniziato. Sarek, Sarek, Trenitalia, . Sarek, Sarek, 20, 56, weiterminzione, двух, sei fiore 4,5, fulriti di Veserio, Sarek, 7, abbiamo entr metals, singuri di Trenitalia, tuoi Chevy, Bussia, 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 Foggia, Sarek, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.